L'opera di Sergi ritrae un anziano, sul porticato di casa, seduto su quello che sarà il frutto del suo lavoro, la sedia. Gli abitanti del paese che l'hanno conosciuto dicono che sia uguale e identico a colui che anticamente si dedicava a questo mestiere, e che per questo aveva assunto il soprannome di Sejar, ovvero chi produce le sedie, rigorosamente invimini. Il murale ispirato ad una fotografia storica, conservata di generazione in generazione, riproduce sul volto dell'uomo, quel sorriso soddisfatto, di chi con tenacia e pazienza, è giunto al termine del proprio lavoro. La riproduzione dell'uomo canuto, curvo e attento nell'operazione dell'intreccio dei vimini, è una vera e propria pagina di storia quotidiana, che ci parla di un tempo che sta pian piano scomparendo. Ai giorni nostri il sapere degli anziani, considerato un tempo di grande valore da trasmettere, è superato, e le antiche arti trasmesse di generazione in generazione, rischiano di scomparire per sempre. Ecco allora che l'artista fissa il seggiare e la sua arte sulle mura del paese, per fissarlo nella memoria collettiva, e salvarlo dall'oblio del tempo.